Ed il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha presentato i componenti di quella che lui stesso ha definito la giunta delle competenze. Bottaro ha nominato sette assessori, Giuseppe Tempesta, contratti, appalti, contenzioso, trasparenza, affari generali, affari istituzionali, Deborah Ciliento, al personale, politiche per l'infanzia, finanziamenti regionali e comunitari, rapporti con gli enti locali pari opportunità, Giuseppe De Michele, Polizia Municipale, Protezione Civile e Viabilità, Raffaella Bologna, De Manio e Patrimonio, Attività Produttive e Commercio, Angelo De Biase, Bilancio e Servizi Finanziari, Maria Grazia Di Staso, Cultura e Pubblica Istruzione e Felice Di Lernia, Servizi Sociali. Il sindaco ha mantenuto per sé le deleghe al turismo, urbanistica, lavori pubblici, sport e agricoltura, mentre nei prossimi giorni verrà nominato l'assessore all'ambiente. Sindaco, perché simbolicamente ha scelto il Fortino? Beh, era un po' il mio spot pubblicitario, quindi ritorniamo a Trani, partiamo quindi da Trani, mi piaceva ritornare sul Fortino, quindi era un segnale che ho dato in campagna elettorale e un segnale che sto dando anche da sindaco. Come sarà questa giunta? Ma sarà un'aggiunta, io l'ho definita di competenze, che dovrà lavorare, dovrà lavorare anche tanto, c'è tanto da lavorare, per cui sarà un'aggiunta molto operativa, io l'ho definita molto smart, devono essere più veloci di me, quindi mi aspetto tanto da loro. Non c'è vice sindaco perché ho sempre detto una cosa, vale per i miei assessori, vale per tutti i miei concittadini, ognuno di noi è sindaco, si deve sentire sindaco, non esiste un vice da nessuna parte, non esisterà per tutta la mia legislatura, chiaramente chi mi dovrà sostituire nel momento della mia assenza verrà di volta in volta nominato, non ci sono doppie figure, c'è un sindaco che rappresenta l'intera città, ci sono i cittadini che devono sentirsi sindaco, ci sono assessori che devono sentirsi sindaco in tutti i momenti. Come stanno reagendo i partiti alle richieste del sindaco Bottaro nei confronti della individuazione di queste persone? In maniera responsabile, è evidente che hanno compreso soprattutto il messaggio di un sindaco che in questo momento chiede soprattutto anche ai partiti di individuare, di scegliere tutti insieme le migliori competenze nel creare un'aggiunta che io non ho definito né tecnica né politica, ma realmente l'aggiunta ha delle competenze. È evidente peraltro che nell'idea che io ho di amministrazione, soprattutto di consiglio comunale, ogni consigliere comunale verrà chiamato a partecipare alla vita amministrativa in prima persona, per questo motivo ho mantenuto e manterrò molte deleghe, che saranno le deleghe che io cercherò di dare ai singoli consiglieri nelle singole attività che verranno chiamate a svolgere nel corso dell'attività amministrativa. È cambiato un po' per me il mondo amministrativo di Trani. Immaginate le vecchie commissioni consigliari, immaginate invece adesso consiglieri comunali che saranno chiamati fattivamente a occuparsi dei problemi nella città, che sono tanti. Hanno già tutti compreso che non esiste un assessore che avrà le sue deleghe e le sue attività. Si lavora di squadra in maniera congiunta perché alla fine ogni problema ha diverse sfaccettature. In teoria ne manca soltanto uno ed è l'unica delega, l'ultimo assessore che darò, è quella della delega sull'ambiente, che ritengo fondamentale. Non nomino oggi ancora l'assessore perché sto aspettando delle risposte, che chiaramente ho cercato di chiedere a delle eccellenze in materia ambientale. Sto aspettando chiaramente delle risposte. Spero nell'arco di una settimana di poter nominarmi l'ottavo assessore. Per quanto riguarda la Ciliento, Deborah era una risorsa che assolutamente non volevo perdere perché è nata in una campagna elettorale, è stata la grande sorpresa della nostra campagna elettorale, quindi non volevo assolutamente perderla e quindi l'ho voluta portare in giunta insieme a me.